Lentini, la donna trovata carbonizzata a un nome, la pista del suicidio. A un nome il corpo carbonizzato della donna ritrovato domenica pomeriggio al parco Emanuele Ferraro a Lentini. Si tratta di Angela Pollini, 45 anni. Sono stati familiari a riconoscere a loro parente dall'abbigliamento. I carabinieri della stazione di Lentini hanno raccolto le informazioni e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Domenica a dare allarma sono stati alcuni residenti che appena hanno visto le fiamme provenire dal parco hanno avvisato i vigili del fuoco che giunti sul posto si sono accorti che il rogo proveniva da un cadavere sul quale erano stati depositati rami secchi. Sembra che la donna soffrisse di depressione. La tesi privilegiata dell'investigatore è quella del suicidio. La donna avrebbe deciso di togliersi la vita cospargendosi del liquido infiammabile addosso e si sarebbe poi dato a fuoco.